E what day a tutti ciurma e benvenuti raggio green in questa nuovissima reaction Non potevo assolutamente non fare questa reaction ragazzi Perché? Perché pochissimi giorni fa è stato pubblicato questo official full trailer di The Wolf Among Us 2 Non so quanti di voi appunto conoscano questo gioco probabilmente se avete aperto questo video lo conoscete E perché dicevo di non poter evitare di fare questa reaction ragazzi? Perché a suo tempo quando giocai The Wolf Among Us ne rimasi letteralmente abbagliata, innamorata, mi piacque veramente tantissimo Penso infatti di poterlo inserire fra uno dei miei giochi preferiti Si trattava appunto di un gioco della Telltale ragazzi quindi comunque il genere era sempre quello nel senso storia a scelte Scelte che influenzano l'andamento della trama, che influenzano il rapporto fra il protagonista e gli altri personaggi Quindi sapete quanto io adori questo genere di gioco e questo mi piacque particolarmente tra l'altro Non solo per il genere in sé che io personalmente adoro appunto Ma anche per quello di cui tratta il gioco stesso, nel senso l'ambientazione, i personaggi Perché mi piace così tanto? Perché sì, la storia è ambientata, è vero, nel nostro mondo Se non sbaglio tipo verso la fine degli anni 80, ok? Quindi l'ambientazione è anche un po' vintage Ma la cosa bella è che appunto i personaggi delle fiabe, delle storie comunque fantastiche che conosciamo Sono fuggiti dal loro mondo a causa, adesso non mi ricordo ragazzi precisamente di quale minaccia E sono venuti a rifugiarsi nel nostro mondo Quindi costretti praticamente ad adattarsi chiaramente alla nostra società Comunque i nostri usi e i nostri costumi Quindi questa cosa mi piaceva veramente da morire Nel senso che avessimo comunque a che fare con personaggi delle favole, delle fiabe Anche creature comunque fantastiche, però all'interno del nostro mondo Tra l'altro adoro il protagonista, impersoniamo Big B. Wolf Sarebbe a dire ragazzi, il lupo cattivo Che chiaramente ha assunto una forma umana Ma è capace di trasformarsi appunto anche in lupo Ma mi piace proprio il suo personaggio, come lo hanno impostato E in ogni caso ragazzi appunto ero rimasta veramente innamorata Il gioco di per sé che è vero alla fin fine resta sempre un semplice punta e clicca Ma mi era piaciuto veramente veramente tanto Quindi io sono in hype assurdo ragazzi per questo Che dovrebbe essere un sequel io credo Perché comunque si è stato chiamato The Wolf Among Us 2 Quindi comunque dovrebbe seguire la storia del primo The Wolf Among Us A meno che non sia un prequel, non lo so sinceramente non mi ricordo È stato fatto vedere veramente molto poco di questo gioco E quindi anche in maniera abbastanza ragazzi distanziata comunque da una cosa all'altra Quindi non ricordo assolutamente alcun tipo di dettaglio Questo trailer ragazzi è stato rilasciato appunto pochissimi giorni fa È in inglese, noi lo guarderemo con i sottotitoli in inglese Cercherò di non sovrapporre ragazzi la mia voce chiaramente a ciò che si sentirà nel trailer Poi ne parleremo comunque a fine reaction Io veramente ragazzi sto fremendo, non vedo l'ora perché è un trailer ufficiale e intero Tra l'altro dura due minuti, quindi dura la bellezza di due minuti E quindi sto veramente fremendo Sto aspettando da veramente tanti anni ragazzi Questo sequel come vi stavo dicendo poco fa Pensate che io il primo The Wolf Among Us ragazzi lo giocai su PS3 Penso di aver detto tutto Comunque non perdiamo più tempo Andiamo a guardare questo trailer La notte dell'incidente? Oh Dio la musica Non esistante a share with us I assume it has something to do with confidentiality associated with the job Something like that Your boss, Miss White, said things didn't go as planned She mentioned that there was some violence? In the moments when you find yourself losing control Sono quelli del mago di os Oh mio Dio Oh mio Dio ma io lo voglio tipo now Lo voglio tipo adesso Lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio Oh mio Dio Quelli erano quelli del mago di os ragazzi L'uomo di latta lo spaventa passere e c'era lei come si chiamava Manco mi ricordo il nome Oh mio Dio ma io lo voglio now Io lo pretendo, lo pretendo adesso Cioè rega allora Vedete quando poi una cosa ti resta stampata in testa Ti resta stampata nel cuore Cioè non puoi reagire così quando vedi certa roba A me già la musica ragazzi È passato tanto tempo da quando io ho giocato The Wolf Among Us Sono passati anni ragazzi Perché come vi ho detto Io l'ho giocato su PS3 Quindi sono passati veramente tanti anni Ma certe cose mi sono rimaste stampate Tipo per esempio quella musica Quella colonna sonora ragazzi Quei disegni Quell'atmosfera Quella caratterizzazione dei personaggi Quel gameplay che secondo me sarà fighissimo E poi lui Oh mio Dio che quando perde il controllo Diventa e trasforma in un lupo Gigante no rega Io non ce la posso fare Io non ce la posso fare ad aspettare Non ce la posso fare ad aspettare Quindi se me lo state per chiedere Lo comprerò a lancio Sì 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 Assolutamente Ci porterò una serie Penso proprio di sì Sì se lo vorrete ragazzi Ma io questo gioco me lo devo giocare appena esce Perché sono veramente troppi Troppi anni che sto aspettando questo momento E mi ha emozionato Come immaginavo che mi avrebbe emozionato Io avevo sempre detto ragazzi Che le sensazioni che provo di solito Quando guardo un qualsiasi trailer Sono molto indicative Nel senso che riesco Solitamente sempre a capire Da un già solo dal trailer Se una cosa mi potrei intrippare oppure no E questo regà Cioè vi giuro mi stavano avvenendo lacrime agli occhi ragazzi Cioè sono troppo contenta Non mi sembra vero porca miseria Che finalmente il momento si stia avvicinando Perché sono così tanti anni Che sto aspettando questo momento Così tanti anni che sto aspettando questo sequel Che voi non potete immaginare la mia felicità ragazzi La mia contentezza veramente Io chiaramente aspetto assolutamente Che voi mi diciate qua sotto Voi che cosa ne pensate Se avevate giocatore Wolf Among Us Se state aspettando da tanto tempo questo sequel Che hype avete Che impressioni vi ha dato il trailer Mi raccomando ragazzi Fatemi sapere qua sotto voi Che cosa ne pensate Perché sono troppo curiosa Io Io Raga hype a mille E dire poco Io non vedo l'ora Non vedo l'ora davvero Che arrivi Che esca Perché Big me mi è mancato ragazzi Mi è mancato Cioè no Veramente Sono troppo contenta Raga Troppo contenta Non vedo l'ora Non vedo l'ora Ci tenevo a ringraziare Rapidamente e brevemente Ignazione Che mi ha segnalato questo trailer Perché se no Io non ero a conoscenza Del fatto che fosse stato pubblicato Quindi grazie Ignazio Ti voglio bene Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione E un bacio a tutti ragazzi La giocherina Ciao